Non mi fai mai fare quello che voglio. Non mi fai essere... essere me. Aspetta, hai sbagliato piano. E che albergo della Minghi? A Will Smith non capitano certe cose. Papà! Tom! Benvenuto, io sono il re di questo dominio. Questo è Amal Cord Produzioni. Che hai fatto a mio figlio? Dov'è Tom? L'unico modo per salvarlo è sfidare i miei personaggi a basket. Mandiamolo nel mondo di Aldo Giovanni e Gianni. Aspetta! Qualcuno mi aiuti! E' canuto! Ceccio, allora! Ma che succede? Ora me l'immagino tutto spappolato con le mosche che gli girano intorno. Sono un cartone? Che roba è? Niente. Mi serve una squadra speciale. Ma che problema c'è? Giovanni, non è che conosci qualcuno, un amico, un parente? Non conosco nessuno. Benvenuti nel mondo di Amal Cord Produzioni. Ma dove cazzo siamo? Questa è la Amal Cord Squad. Mica poch! E' come? Non conosco nessuno. D'accordo. Sbocca! Ma dove cazzo è? Sbocca! C'è la Amal Cord tower?